Balmar presenta il salva patate, il sacchetto che conserva qualità, freschezza e gusto. Lo sapevi che la patata è un alimento alcalinizzante utilissimo per la nostra salute? Oltre ad essere utilizzata in cucina, come primo piatto o contorno, la patata è un vegetale ricco di amido, vitamina C e potassio. La sua corretta conservazione è preziosa affinché non germogli e trasformi queste sue straordinarie caratteristiche in sostanze tossiche. Lo sapevi che conservare le patate nelle buste di plastica è sconsigliato? Le patate respirano e hanno bisogno di ossigeno oltre che del buio. Il sacchetto con cui vengono acquistate accelera la germogliazione, dunque il suo deterioramento. Il salva patate, invece, garantisce la conservazione, impedendo l'esposizione alla luce, la formazione di una sostanza organica tossica, la solanina, la perdita di consistenza e qualità. Grazie al doppio strato di puro cotone e allo strato interno nero del salva patate, l'unico brevettato. Il sacchetto è ideale per la conservazione ottimale delle patate, impedisce alterazioni dell'amido, evita gli sprechi e i batteri. Disponibile su salvapatate.com Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!